Buonasera, sono Antonio Urrata, direttore generale della Fondazione Ente dello Spettacolo. La mia presenza è una collaborazione con il Festival di Marzamemi, uno per valorizzare il territorio, l'altro per dare anche un segnale di partecipazione attraverso la comunicazione delle culture, la diversità, la frontiera, mettendo in sinergia quello che è il nostro network di conoscenza sulle opere che raccontano queste storie e con il territorio, quindi con la città di Marzamemi e con questa bellissima iniziativa che porta avanti in questi anni. Io mi chiamo Ivan Giru e sono qui invitato al giurato del Festival di Cine Sin Fronteras. E, bueno, accetté la invitazione, in primo lugar perché non conosco a Sicilia, devo dirlo, confesarlo. Me dava molto interesse venire a un Festival di Cine, che tuve il nome, che non considerava la frontera e che, a parte, si era in una isla. Io sono anche di una isla, io vengo di Cuba, sono cubano, e in questo senso di insularità, sempre mi sento molto meglio in una isla che in un continente. Un saluto, un arrivederci al prossimo anno. Grazie a tutti.